Un emendamento bipartisan alla legge di bilancio per il rifinanziamento del Fondo Nazionale Alzheimer in scadenza, 35 milioni di euro in tre anni. Lo ha annunciato il ministro della salute Orazio Schillaci partecipando in videoconferenza al convegno Uniti contro l'Alzheimer promosso dall'intergruppo parlamentare per le neuroscienze e l'Alzheimer a Napoli presso il complesso monumentale di Santa Maria la Nova. Noi ne parliamo con l'onorevole Beatrice Lorenzin. Come commentiamo la sottoscrizione del manifesto presentato oggi? Noi abbiamo realizzato questo intergruppo sulle neuroscienze e l'Alzheimer per mettere e puntare i riflettori della politica e del Parlamento sulla questione delle demenze e dell'Alzheimer in Italia. Sentivamo questa necessità, cioè che questa fosse una priorità dell'agenda politica. Siamo riusciti ad ottenere il rifinanziamento del Fondo per l'Alzheimer che per noi è molto importante ma soprattutto lo è per il mondo scientifico e per il mondo sanitario e per il mondo delle associazioni. Ora con questo manifesto ci siamo dati una piattaforma di azioni concrete da realizzare insieme alle società scientifiche e insieme alle famiglie nei prossimi anni. Cioè pezzo per pezzo migliorare la qualità della vita dei pazienti con Alzheimer in Italia, aiutare il finanziamento del fondo sociale, delle realtà che agiscono sui territori ma dall'altra parte anche prepararci all'arrivo delle terapie. Cosa deve cambiare nella presa in carico e nella cura delle persone con Alzheimer? Innanzitutto deve essere fatta una diagnosi precoce, poi ci deve essere una rete sia farmacologica che non farmacologica omogenea su tutto il territorio nazionale che permetta alla persona con Alzheimer di diciamo vivere la sua condizione nel modo più dichitoso possibile. Il malato quando arriva a un punto diciamo dove purtroppo la malattia diventa particolarmente gravosa non deve essere abbandonato a se stesso né alla famiglia e garantire la dignità della persona in tutte le sue parti della vita, anche nelle sue parti diverse della malattia. Questo è un fatto veramente importante di civiltà. Noi siamo una popolazione anziana che invecchia, le demenze fanno parte della terza età e della quarta età. Oggi possiamo contrastare la degenerazione e speriamo anche nell'arrivo delle terapie che possano permettere di curare. Questa è una speranza che non dobbiamo abbandonare ma se non realizziamo prima la diagnosi precoce, se non costruiamo bene questa rete su tutto il territorio non potremo dare accesso alle persone a queste terapie quando dovessero arrivare, che arriveranno, questo noi già diciamo più o meno lo sappiamo. Quindi è una corsa che facciamo per poter garantire a chi verrà diagnosticato in modo precoce di non sviluppare in modo grave la malattia. Guardi che fa una grandissima differenza. Non vuol dire guarire per il momento, vuol dire rallentare l'effetto degenerativo di una malattia che purtroppo ci spaventa tutti, diciamolo.